E' lei o non è lei, certo che è lei, sorpresa, hai lasciato le chiavi attaccate sulla porta, sorpresa, finalmente mio marito è a casa, è viva, è viva, se Pasqua, se Pasqua, che caro che go, se magna e fugazza e se beve cocò, ma Pasqua è finita perché sono le 7 di sera, basta, ciao amore.